Poi lascerò la parola ad Alberto Semprini che è il nostro formatore. Intanto io inizio a presentarmi, mi chiamo Cristian Baccarello, faccio parte dell'ufficio marketing ASUS in cui mi occupo di tutte le attività marketing per il canale della distribuzione, per tutto ciò che riguarda i nostri prodotti consumer, prodotti dedicati al mondo dell'educazione e chiaramente tutti i nostri prodotti commercial o business, che dir si voglia. Detto questo, grazie intanto a TD Cinex e a voi per partecipare a questo webinar, per noi molto importante perché ci dà l'opportunità di raccontarvi quella che è la nostra offerta di prodotti per aziende professionisti, chiaramente parliamo di laptop, andando quindi un po' a sviscelare quelli che sono i vantaggi di ogni macchina, cercando però innanzitutto di darvi un overview, quindi una panoramica di quella che è la nostra offerta, insomma proprio per... per le aziende e per i professionisti, parlando quindi di vantaggi in termini tecnologici che offrono i nostri laptop e tralasciando quelle che sono le caratteristiche tecniche che lasciano un po' il tempo che trovano. Lascio quindi la parola ad Alberto, ad Alberto Semprini, che vi racconterà appunto dei nostri laptop commercial e rimarrò chiaramente collegato e a margine della formazione di Alberto e rimango disponibile per qualsiasi chiarimento. Grazie a tutti e buon webinar. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti, io mi chiamo Alberto Semprini, sono appunto come ha detto Cristian che ringrazio per aver ceduto la parola. Sono informatore Asus e oggi vi farò una panoramica su tutti i prodotti della linea commercial di Asus. Intanto tutto le mie slide in questo momento si vedono, vero? Sì, credo di sì perché le sto condividendo e quindi grazie. E quindi questa è l'agenda di oggi. Come vedete inizierò con due parole ma molto veloci sul brand Asus. Vi illustrerò la segmentazione della nostra line-up business e poi andremo più nel dettaglio a parlare di diversi prodotti, come vedete partendo dal B7 e B9, scendendo poi al B3 e B5 e via dicendo. Con un breve accenno anche a un prodotto molto particolare che è il T3300 e anche ovviamente la tecnologia OLED che è una delle nostre diciamo caratteristiche distintive soprattutto degli ultimi di questo periodo. E poi anche due parole su Asus Zencare che è un servizio diciamo post vendita molto interessante. Allora come dicevo partirei parlando di quello che è il nostro manifesto, il Search of Incredible. È la nostra frase che ci guida in un certo senso. Noi di Asus, sapete siamo un'azienda che ha una storia di più di 30 anni, che attraverso un arco di più di 30 anni nasciamo come produttori di schede madri e poi ci evolviamo e diventiamo diciamo produttori in diversi campi. Quello che però c'è sempre e contraddistingue appunto questa In Search of Incredible, questa ricerca dell'incredibile, dove l'incredibile è diciamo quell'innovazione, insomma quelle trovate, quelle invenzioni, quelle tecnologie che permettono ai nostri diciamo clienti clienti di diciamo avere una vita più facile e comunque avere delle soluzioni per tutte le loro esigenze. Come vedete da questa slide vedete diverse delle nostre innovazioni che abbiamo portato nel mercato. Alcune sono state veramente come si direbbe groundbreaking, sono state veramente molto decisive come ad esempio l'introduzione dell'EPC, gli Ultrabook o i diciamo i convertibili, i 2 in 1, i T101 che sono i nostri diciamo PC 2 in 1, anche alcune diciamo sperimenti particolari come ad esempio il notebook o la scocca di bambù. Quindi come vedete diciamo diverse diciamo soluzioni che ci hanno guidato, insomma che abbiamo provato, abbiamo portato nel mercato. Quindi quello che ci contraddistingue sicuramente è quello di offrire a diciamo i nostri, a tutti i nostri clienti e tutte le persone che poi vanno a utilizzare i nostri device delle soluzioni geniali, quindi delle diciamo delle diciamo delle tecnologie innovative che noi per noi per primi portiamo sul mercato. Detto questo avendovi in prodotto un po' quella che è la filosofia di Asus, vi faccio vedere quella che è la segmentazione appunto della della proposta commercial. Come vedete abbiamo una sorta di piramide nel quale poi ci sono vari livelli ai quali poi appartengono i vari i vari diciamo i vari prodotti. Allora partiamo dalla base come vedete con la linea essential. La linea essential sono diciamo i prodotti quelli appunto come la parola fa intendere quelli più essenziali. Sono i prodotti che pensati soprattutto per tutte quelle aziende che hanno bisogno ovviamente di notebook, i cosiddetti notebook da battaglia. Possiamo utilizzarli sia in campo educational, sia nel small business, oppure anche nel in alcuni casi come il back office, oppure anche nelle supply chain. Poi andando su, scalando la nostra piramida, andiamo sul secondo livello che è la linea advanced. La linea advanced come vedete sono pc, sono notebook ancora più rifiniti, ottimi per quello che riguarda le diciamo le forniture per uniti staff nell'ambito del manufacturing, oppure anche per commerciali o front office. Quindi sono notebook diciamo dalle qualità molto molto importanti che mettono diciamo anche al primo posto caratteristiche come appunto la portabilità e la versabilità. Lo vedremo anche a breve. E poi abbiamo l'apice della nostra piramide, ovvero il B9 e il B7, che sono due prodotti top gamma in un certo senso appunto alla nostra linea premium. Sono quei prodotti pensati special specificatamente per quei professionisti sempre in movimento che hanno bisogno diciamo di un ottimo diciamo connubio tra quello che può essere delle buone prestazioni e pc diciamo dal design molto molto ricercato. E quindi sono diciamo i prodotti quelli più rifiniti, soprattutto dal punto di vista delle tecnologie e della qualità dei materiali e insomma dell'ingegnerizzazione. Quindi diciamo sui nostri prodotti che ho appunto premium, a noi ci piace definirli prodotti di artigianato quasi. E infatti adesso partirei proprio da questi due prodotti, il B9 e il B7. Per la precisione partirei dal B9. Come vedete si tratta di un notebook estremamente portatile, stiamo parlando di un notebook a 14 pollici. Come vedete si tratta di un notebook estremamente diciamo dal design molto molto elegante, ma come vedete da diciamo questa panoramica su diverse caratteristiche ha anche un pc che mette al primo posto sicuramente la portabilità. Come vedete abbiamo la diamo la possibilità ai nostri ai professionisti di riuscire a lavorare diciamo per lunghi periodi grazie diciamo a una batteria molto 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 duratura. Garantiamo diciamo una ottima solidità della macchina col military grade che diciamo è una è una caratteristica del quale poi vi parlerò a breve. Abbiamo diamo la disponibilità di alla possibilità ovviamente di connetterci con il wifi master di tipo 6 quindi diciamo una connessione molto molto veloce e poi abbiamo tutta una serie di diciamo altre diciamo soluzioni molto molto pratiche come ad esempio la cerniera Ergolift del quale vi parlerò a breve e anche diciamo una serie di diciamo accorgimenti per quanto riguarda la sicurezza. Ma il dato più sorprendente probabilmente di questa slide è sicuramente il peso che vedete via sinistra. 880 grammi quindi siamo sotto il chilogrammo e quindi diciamo un peso molto molto contenuto per una macchina che può essere sfruttata in qualsiasi situazione. Infatti come vedete anche da questa slide vi dicevo prima stiamo parlando di un prodotto a 14 pollici quindi dalla portabilità molto alta aumentata appunto da quelle che sono questi dati come vedete. Una diciamo una è molto sottile quindi uno spessore di 14,9 mm quindi diciamo una macchina estremamente sottile è realizzata in lega di magnesio e litio quindi una una lega che ci permette di avere un peso molto contenuto a fronte anche però di una solidità non indifferente e quindi appunto anche un peso come vedete anche molto molto sottile molto diciamo molto 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 basso questo ci permette quindi di avere un'ottima portabilità in qualsiasi situazione. Il professionista che viaggia tutto il giorno che ha bisogno di portarsi dietro il suo lavoro può trarre vantaggio da un pc molto portatile e molto leggevo come questo perché arrivare a fine giornata con sulle spalle diciamo un peso molto irrisorio insomma è un vantaggio notevole che insomma per tutte per tutte le persone forse probabilmente anche voi avete lavorato in 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 mobilità avere diciamo un pc che non vi pesa sulla schiena tutto il giorno quando andate in giro tutto il giorno diciamo è un vantaggio notevole quindi questo diciamo è il focus soprattutto di questa macchina. Un diciamo un peso contenuto però a fronte come vedete anche di uno schermo molto ampio stiamo parlando appunto di un 14 pollici le dimensioni addirittura pensate possono essere addirittura paragonabili a quelle di un foglio a quattro quindi come vedete stiamo parlando sì di un 14 pollici ma dalle dimensioni veramente molto contenuto potrei quasi dire che la scocca di questo pc è una scocca quasi da un pc di da 13 pollici quindi come vedete una portabilità molto molto alta questo grazie anche a una delle nostre tecnologie più diciamo più famose e più diciamo sfruttate almeno da noi ovvero i cosiddetti bordi sottili o nano edge come vedete i bordi su dello schermo sono estremamente sottili sia ai lati sia nella parte superiore e questo ci permette quindi di avere una presenza massiccia dello schermo a fronte ovviamente di una scocca dalle dimensioni molto contenute se facciamo un 100 per cento di macchina pensate che il 94 per cento è composto da schermo quindi vedete abbiamo massimizzato la presenza di uno schermo a fronte di una scocca di un pc di di un form factor anche più piccolo dello schermo che andiamo a montare quindi possiamo tranquillamente dire che il nostro pc appunto come dicevo prima monta uno schermo da 14 pollici su una scocca da 13 quindi come vedete una un valore in portabilità molto molto alto che però non ci fa rinunciare anche la comodità di un di uno schermo abbastanza ampio un'altra delle nostre diciamo tecnologie delle soluzioni che ci contraddistingue che abbiamo portato nel mercato del quale andiamo molto fieri ed è molto molto apprezzata è questa particolare cerniera ovvero la cerniera ergolift come vedete quando andiamo ad aprire la macchina questa macchina si inclina il corpo macchina si inclina rispetto al piano su cui è appoggiata questa diciamo particolare apertura ci permette di avere diversi vantaggi il primo sicuramente quello di una scrittura più confortevole perché voi pensate a una tastiera rivolta verso di voi sicuramente molto più confortevole da utilizzare rispetto a una diciamo che è più più piatta in più abbiamo anche un vantaggio nel sistema di raffreddamento perché si crea sotto la macchina quello spazio che permette di ricircolo di aria calda e aria fredda e quindi diciamo che abbiamo un vantaggio un miglioramento per quanto riguarda appunto il raffreddamento della macchina che sappiamo è una cosa molto molto importante soprattutto quando lavoriamo in mobilità un altro miglioramento non da poco è anche diciamo un miglioramento dell'audio perché le casse che sono diciamo posizionate sotto la scocca quando andiamo a poggiare questa macchina su un piano vanno a usare questo spazio che si crea come cassa di risonanza e quindi la qualità dell'audio ne migliora audio che ricordiamo comunque è sempre comunque di altissima qualità ma vi stavo parlando appunto di grossa portabilità che però come avete visto dalle dimensioni dello schermo non va a rinunciare a insomma sacrificare quella che è la comodità e quindi vogliamo anche offrire una comodità anche nell'utilizzo di questa macchina infatti per molti professionisti è molto comodo di solito usare un tastino numerico per digitare i dati e insomma fare calcoli e via dicendo però allo stesso tempo molti professionisti vogliono diciamo usare questo tastino numerico perché è molto comodo da usare però hanno bisogno di usarlo su un pc dalla portabilità molto alta e quindi alle volte o diciamo sacrificano diciamo la portabilità comprandosi un pc a 15 pollici che però mantiene il tastino numerico oppure si comprano un pc un form factor dal form factor bar 14 o 13 pollici aggiungendo poi un tastino numerico esterno bene noi diciamo veniamo incontro a questa esigenza inventando questo speciale number pad 2.0 si tratta come vedete di una sorta di tastino numerico già integrato dentro il touchpad questo così per diciamo favorire quel professionista che vuole la comodità del del tastino numerico senza rinunciare alla portabilità della sua della macchina questo tastierino è molto particolare perché come vedete luminoso si accende molto facilmente una volta acceso è smart quindi possiamo continuare ad usare il touchpad come se fosse un touchpad normale perché lui da solo si renderà conto se lo stiamo usando come un touchpad o come un tassino un tasterino numerico quindi questo diciamo è una caratteristica molto importante e soprattutto molto molto apprezzata che ci permette appunto di mantenere un'ottima portabilità della nostra macchina senza rinunciare a quella che può essere la comodità di digitazione di un tasterino numerico come vedete questa è una delle un'altra delle nostre diciamo tecnologie esclusive che abbiamo solo noi di asus e abbiamo portato noi nel nel mercato e infine come dicevo prima si stiamo parlando di una macchina parlavo prima di military grade di cosa cosa intendevo praticamente tendevo che la nostra macchina comunque nonostante sia molto portatile molto sottile è comunque anche molto molto solida questo perché la sottoponiamo in un certo senso una serie di stress test diciamo che le nostre macchine sono certificate military grade questo significa che hanno hanno sorpassato una serie di test molto importanti come vedete test di resistenza riguardo agli urti alle cadute accidentali a diciamo il cambio di altitudine all'umidità additura anche a liquidi versati sulla tastiera quindi sono macchine sempre diciamo molto resistenti che possono essere diciamo utilizzate in qualsiasi situazione questo perché perché per un professionista è molto importante avere una macchina che sia sempre affidabile e che possa utilizzare in qualsiasi situazione quindi perché una volta che una macchina praticamente può subire un danno magari una caduta accidentale o uno schizzo d'acqua sulla tastiera come posso dire sì la macchina ovviamente subisce un danno e deve essere mandato in assistenza questo si traduce in che cosa in una in uno stop della produttività uno stop del nostro lavoro e noi non vogliamo che questo succeda vogliamo che i nostri professionisti o chiunque usi le nostre macchine sia capace di poterle usare sempre e comunque quindi garantiamo un'ottima solidità delle nostre macchine grazie a questa certificazione e a questa serie di stress test ovviamente adesso vi ho parlato del b9 parti passiamo a parlare del b7 che è un'altra macchina molto molto interessante come vedete già da questa slide stiamo parlando di una macchina flip le macchine flip sono quelle tipo di quei notebook che permettono di essere ruotati fino a 360 gradi quindi possono essere usati praticamente come dei tablet sono uniti logicamente di un schermo touchscreen e sono ovviamente molto molto portatili e molto versatili in questo caso abbiamo anche diciamo una feature molto interessante che è quella dell'integrazione di una tecnologia 5g questo per permettere al professionista di poter utilizzare il ovviamente questo notebook in mobilità e quindi usare diciamo anche una connessione di tipo 5g in modo da poter diciamo lavorare in qualsiasi situazione alla massima velocità quindi come vedete una anche qui una soluzione molto molto importante per un qualsiasi diciamo professionista che debba lavorare in in mobilità anche qui una bella slide di recap di tutte le tecnologie di questa macchina come vedete come vi ho detto appunto si tratta di una macchina flip quindi dotata di un touchscreen è dotata anche di una penna del quale adesso vi parlo meglio di una di una stylus che permette appunto di diciamo interagire quindi scrivere appunto o insomma fare altro insomma direttamente sullo schermo la tecnologia 5g del quale vi ho già parlato della possibilità di connettere questa macchina tramite una una tecnologia di questo tipo anche questa macchina come vedete come tutte le nostre macchine commercial è certificata military grade e anche diciamo ci sono altre diciamo tecnologie vedete anche qui una cerniera argolift che ci permette appunto di avere quei vantaggi di cui parlavo prima ma anche diciamo delle tecnologie per quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei dati allora iniziamo a parlare di un'altra caratteristica che adesso non vi ho fatto vedere ma ve ne parlo subito perché è molto molto importante molto particolare di questa macchina come vedete anche qui diamo la possibilità di avere bordi molto molto sottili in questo caso stiamo parlando di un 81% di rapporto schermo macchina e quindi fatto 100 per cento di macchina 81 è composto da schermo stiamo parlando sempre di un 14 pollici però come vedete il rapporto diciamo dello schermo un po particolare di solito queste macchine hanno degli schermi era poco un rapporto di 16 9 invece qui abbiamo un rapporto da 16 decimi questo diciamo rapporto può essere una cosa un po particolare che rende diciamo il pc anche dall'aspetto un po inusuale e mi posso assicurare che però è ovviamente una scelta che ci permette di avere molti vantaggi soprattutto per il professionista che lavora in mobilità qual è questo vantaggio è molto detto presto detto insomma con un 16 noni noi guadagniamo diciamo uno spazio di lavoro uno spazio di lavoro che si può lo spazio di lavoro e soprattutto in verticale quindi come vedete abbiamo la possibilità quindi di riuscire a visualizzare il nostro lavoro dovunque noi siamo con diciamo un uno spazio aggiuntivo in verticale questo quindi ci permette quindi di avere uno spazio di lavoro molto più ampio e quindi di riuscire a vedere il nostro diciamo lavoro in maniera più totale senza dover scrollare continuamente con la rotellina del mouse su e in giù allora sembra una cosa diciamo così un po un po secondaria ma in realtà vi posso assicurare che per un professionista un rapporto di questo genere è veramente molto comodo tanto che molti dei professionisti insomma che usano questo tipo che ha iniziato a usare questo tipo di schermo difficilmente torna indietro al 16 noni perché perché effettivamente lavorare in mobilità con uno schermo così ampio è veramente molto molto comodo perché avere più diciamo spazio di lavoro ci permette quindi di avere come dicevo prima di non andare a scrollare quindi avere una visione più 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 comprensiva del nostro lavoro e quindi ne tutto ciò ne giova di produttività perché ovviamente avendo una visuale così comprensivo uno spazio loro più più ampio possiamo diciamo risparmiare più tempo anche quando andiamo a lavorare in più aggiungendo il fatto che stiamo parlando di un 14 pollici ci sono diversi professionisti che hanno bisogno appunto di molto spazio diciamo di lavoro e però avere diciamo questo spazio lavoro in più su un form factor da 14 pollici insomma non è una cosa da poco diciamo è un vantaggio notevole quindi stiamo sperimentando anzi abbiamo già sperimentato questo tipo di rapporto è molto molto apprezzato da diversi da diversi professionisti e quindi lo proponiamo anche su questa tipologia di macchina ovviamente stavo come dicevo prima stiamo parlando di touchscreen come dicevo prima c'è è inclusa anche una stylus quindi una penna con cui possiamo interagire direttamente con la nostra macchina ovviamente non si tratta di una penna qualsiasi come vedete è una penna che riesce a rilevare diversi livelli di pressione come vedete addirittura 4096 livelli di pressione diverse questo per garantire diciamo al nostro professionista una penna di ad uso professionale appunto quindi non si tratta semplicemente di una penna aggiunta così tanto per avere un gadget in più ma si tratta appunto di uno strumento che si può usare facilmente in qualsiasi situazione per qualsiasi esigenza anche a livello diciamo più a livello professionale vi dicevo prima della sicurezza dei nostri dati allora per il professionista avere dei pc che salvaguardino insomma i dati aziendali è importantissimo noi abbiamo tutta una serie di tecnologie come ad esempio lo sblocco adesso poi ve ne parlerò anche dopo dello sblocco ad esempio della del pc tramite riconoscimento del volto o appunto di fingerprints e su questa macchina abbiamo la tecnologia ancora più particolare ovvero un angolo di visione diciamo limitato che ci permette quindi di nascondere il nostro contenuto del nostro pc a tutte quelle persone che sono diciamo nelle prossimità quindi abbiamo come vedete il nostro il lo schermo del nostro pc è tarato in modo che sia perfettamente visibile a 45 per 45 in uno spazio di 45 gradi al di fuori di questo spazio il pc non può essere lo schermo non può essere visto quindi diciamo è un vantaggio notevole di solito molti professionisti usano per ottenere diciamo questo risultato usano una sorta di pellicola o di schermo aggiuntivo da mettere sopra il pannello noi diciamo in diciamo integriamo questa tecnologia già della nostra macchina in modo da garantire al professionista tutta la sicurezza per quanto riguarda ovviamente il trattamento dei dati aziendali dei suoi dati insomma pro di lavoro come dicevo prima non non ci limitiamo solamente a questo ma a tutte quelle diciamo tecnologie che ci permettono appunto di bloccare e sbloccare la macchina in qualsiasi situazione la questo pc questo 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 notebook è provvisto appunto di una telecamera tridimensionale che va a riconoscere il volto della persona insomma che la sta usando e quindi possiamo sbloccare diciamo il pc grazie a windows e lo con l'uso di questa telecamera che va a prendere attenzione proprio la forma tridimensionale del nostro volto quindi non possiamo diciamo aggirare questo tipo di questo tipo di blocco con una foto o altre cose di questo genere perché la il proprietario deve essere fisicamente seduto davanti per essere riconosciuto dalla macchina in più c'è anche un riconoscimento delle impronte digitali inserito già nel tasto di accensione che è il tasto lì laterale che vedete questo ci permette quindi di volendo di sbloccare il pc sia con il riconoscimento del volto oppure delle impronte digitali bene queste sono diciamo le le caratteristiche del b7 del b9 ora parlerei invece di quella che è la metà della nostra piramide quindi del b3 e del b5 quindi tutti quei prodotti ovviamente perfetti per diciamo quello che può essere uniti sta per una dotazione di uniti staff manufacturing e via dicendo partiamo dal b3 come vedete anche qui una macchina che dotata appunto di la tecnologia flip e quindi una macchina che si può diciamo ribaltare qui come vedete ci sono diverse diciamo tecnologie anche qui integrate come appunto webcam shield del quale vi parlerò a breve anche qui abbiamo una tastiera spill resistance quindi una tastiera che ci permette di ripararci dagli schizzi d'acqua abbiamo anche diciamo una una scocca appunto molto molto leggera un user stato indicator che è diciamo una una sorta di spia che permette a chi è esterno di vedere se siamo se stiamo diciamo siamo in un riunione oppure no se siamo diciamo impegnati in in qualche attività per cui non possiamo dobbiamo essere disturbati e poi abbiamo anche una caratteristica molto particolare un trattamento antibatterico del quale vi parlo adesso come vedete questa macchina nella diciamo nella parte della scocca che di solito è più interessata diciamo all'intera all'interazione con le mani o quindi la tastiera la parte diciamo dove si vanno appoggiare i polsi è stata trattata con uno speciale diciamo composto che va a eliminare la creazione quindi la nascita quindi il proliferare di batteri questo diciamo è una è una caratteristica che in questi tempi insomma diventa diventata anche abbastanza diciamo di attualità e quindi noi diciamo possiamo offrire questa possibilità quindi di di avere diciamo un pc che è sempre diciamo igienicamente sempre molto diciamo sicuro da questo punto di vista grazie a questo trattamento che mi raccomando è un trattamento perenne applicato appunto sulla tastiera e sulle parti che di solito si toccano più spesso ma logicamente ci sono anche altre diciamo tecnologie che ci possono aiutare nelle nostre attività professionali tutti i giorni una delle delle attività la stiamo facendo proprio in questo momento è quella delle call online le call online ovviamente possono avere dei problemi soprattutto se lavoriamo in mobilità ovvero se noi siamo in giro e dobbiamo fare una call in un posto diciamo di emergenza in un posto magari un po rumoroso c'è il rischio che il nostro voce non venga percepita bene dai dalle persone con cui stiamo parlando quindi questa diciamo tecnologia che montiamo su questa macchina si chiama noise cancelling technology ci permette di filtrare l'audio e quindi di eliminare tutto quello che è a rumore di fondo e far arrivare al nostro interlocutore esclusivamente la mia la nostra voce questa cosa è molto in molto quindi molto pratica soprattutto se lavoriamo in mobilità e dobbiamo insomma fare le call di di continuo ed è pratica anche perché funziona in due in due sensi sia per noi che andiamo diciamo a parlare con un posto rumoroso ma sia se dobbiamo ascoltare una persona che sta in un posto rumoroso perché questa tecnologia permette di ripulire l'audio anche in entrata quindi anche l'audio degli altri interlocutori che magari sono imposti un pochettino rumorosi qui diciamo una una tecnologia che va a filtrare l'audio e ci fa arrivare solamente la nostra voce o fa arrivare ad altre persone solamente la voce in modo che le call siano sempre ottime e di alta qualità in qualsiasi situazione come dicevo prima abbiamo anche un webcam shield ovvero una semplice sportellino fisico che va a coprire la webcam allora sembra una cosa così un po banale ma in realtà è una cosa veramente molto molto utile perché ci garantisce diciamo un'ottima protezione delle nostre diciamo i nostri dati delle nostre diciamo della nostra privacy grazie a un gesto molto molto semplice molto veloce e soprattutto risolutivo grazie siamo con questo sportellino che logicamente è segnalato quindi vediamo subito ad occhio nudo se è disponibile se è coperto oppure no e riusciamo quindi a diciamo eliminare qualsiasi la possibilità di essere visti in qualsiasi modo senza dover ricordarci se l'abbiamo fatto via software con il nostro software e via dicendo con un semplice gesto possiamo coprire la telecamera e quindi metterci al riparo da occhi indiscretti in qualsiasi situazione ora parlerai un attimo anche dell'altra diciamo dell'altro prodotto ovvero del b5 quindi focalizzerei soprattutto però su una caratteristica di questo prodotto perché questa questa macchina monta un pannello oled ora intanto vedete anche qui una bella overview di tutte le varie tecnologie quindi siamo anche qui su uno schermo a sé dal rapporto da 16,9 il webcam shield user state indicator la scocca di alluminio quindi vedete tutte diciamo tecnologie che abbiamo visto anche sulle altre macchine come ad esempio anche l'ergolift quindi vedete questa volta possiamo estenderla fino a 180 gradi quindi diciamo aprire il nostro pc in orizzontale in modo da poterlo far diciamo condividere in maniera molto facile i nostri contenuti ma appunto come dicevo prima la caratteristica la caratteristica sul cui su cui voglio focalizzarmi di più è appunto la tecnologia oled questo perché perché la tecnologia oled è una tecnologia che probabilmente voi avete già visto applicata in altri ambiti come appunto quella delle tv o degli smartphone però è la prima volta che viene applicata nell'ambito del dei notebook e noi siamo orgogliosamente i primi a diciamo portare questo tipo di tecnologia con queste diciamo con queste diciamo caratteristiche su delle macchine anche professionali allora quali sono diciamo i vantaggi di una tecnologia oled rispetto a quelle di un lcd beh innanzitutto diciamo che l'oled è una tecnologia diversa rispetto alle lcd perché ci permette di avere diciamo una gamma di colori molto molto più ampia adesso ve la farò vedere ecco qua qui la gamma di colori una gamma di colori più ampia si trasforma in che cosa in dei colori molto molto più vividi molto molto più accesi e soprattutto di qualità molto alta quindi in ambito professionale questa tecnologia può essere molto utile perché ci permette appunto di lavorare su dei colori che hanno diciamo una una affidabilità dal punto di vista della qualità molto più alta rispetto a quella dell'lcd questo perché la la gamma di colore a cui l'oled può accedere che la dc ip3 è molto più ampia rispetto a quella del srgb che la tipica dell'lcd a occhio nudo adesso da qui vedete queste slide però se voi vedeste un delle macchine oled accanto a delle macchine lcd notereste subito la differenza dal punto di vista della luminosità e della qualità dei colori e quindi diciamo una tecnologia che dà un immenso vantaggio da questo punto di vista anche perché poi i nostri schermi sono certificati cinema grade quindi hanno diciamo rispettano quelli che sono gli standard professionali dal punto di vista dell'industria dell'audiovisivo un'altra caratteristica è che questa qualità dei colori non si perde anche se andiamo a diminuire la luminosità dello schermo quindi se noi prendiamo un lcd e andiamo a diminuire la luminosità noteremo che i colori si ingrigiscono perdono di qualità invece con l'oled questa perdita di qualità non c'è rimangono sempre della stessa qualità anche se andiamo ad abbassare la luminosità questo ci permette quindi di avere un'ottima visualizzazione del colore in qualsiasi situazione anche questo è un vantaggio notevole anche per tutti i professionisti altro vantaggio è un contrasto elevatissimo soprattutto rispetto a quello che la tecnologia lcd abbiamo come vedete la certificazione vesa di un hd ready quindi di una diciamo un contrasto veramente molto elevato questo perché come vedete quindi vedete se andiamo a visualizzare un'immagine scura dove c'è del nero lcd è sempre un pochettino più grigio mentre l'oled riusciamo a vedere un nero più profondo un nero vero questo perché perché vedete da questa piccola immagine che contrappone le due le due le due tecnologie vedete che l'lcd illumina lo schermo in maniera uniforme e quindi quando va a visualizzare del nero colora il pixel di nero ma la luminosità dietro rimane accesa e quindi il nero è un nero un po spento un po grigio mentre con l'oled l'oled riesce a spegnere diciamo la luminosità di ogni singolo pixel quindi quando andiamo a visualizzare il nero è un nero autentico è un nero diciamo molto più profondo rispetto all'lcd questo in cosa si traduce come vedete appunto come dicevo prima in un contrasto molto molto elevato utilissimo per tutti quei professionisti che hanno bisogno di lavorare con delle immagini ad alto contrasto che diciamo come dicevo appunto un è un è un limite insomma è un è un vantaggio che molto molto più è un vantaggio che le tecnologie oled ha rispetto alla tecnologia lcd tradizionale in più diamo anche diciamo un altro un'altra sicurezza da questo punto di vista il professionista che lavora tutto il giorno davanti uno schermo rischia di avere dei problemi alla vista perché perché la luce blu che la luce diciamo che è responsabile dei danni diciamo ha il alla alla vista di chi lavora molto tempo davanti al pc diciamo è nei schermi di solito lcd di solito è molto alta nei nostri schermi oled come vedete sono certificati tuve reinald cosa vuol dire che l'emissione di luce blu che appunto la luce dannosa è diminuita fino al 70 per cento quindi questo cosa vuol dire che noi possiamo stare tanto tempo davanti a questi pannelli oled senza subire diciamo dei danni alla retina questo vale sia per il professionista che lavora ma volendo anche per diciamo un utente più più giovane anche un bambino che ha problemi da che può avere di problemi alla vista crescendo in questo caso ovviamente possiamo diciamo garantire un'ottima diciamo garantire che non ci siano danni alla vista grazie a questa certificazione a questa diminuzione di luce di emissione di luce blu ok adesso vi ho parlato dei prodotti della linea della linea advanced torniamo arriviamo alla base della nostra della nostra piramide ovvero la linea essential e mi parlerò per la precisione di un modello anzi una modella in due varianti il b1400 e il b1500 stiamo parlando di due macchine una 15 pollici e una 14 pollici che però condividono le stesse tecnologie come vedete stiamo parlando di linea essential quindi potreste pensare che stiamo parlando di pc diciamo dal design un pochettino più andante no perché se parliamo di essential di solito si parla di macchine insomma canon design poco curato insomma invece come vedete noi curiamo tantissimo il design anche di macchine di questo genere come vedete anche queste anche le macchine tipo essential hanno diciamo una cura molto molto diciamo hanno molta cura nell'essere state diciamo realizzate soprattutto dal punto di vista anche estetico abbiamo un case in se comunque in alluminio quindi comunque in metallo e quindi non in plastica abbiamo anche qui dei bordi molto molto sottili e siamo delle tecnologie anche qui che ci permettono di avere una resistenza molta resistenza di queste macchine come ad esempio anche le tastiere spill resistance anche qui la possibilità di ampliare la l'apertura della macchina fino a 180 gradi che sembra una cosa diciamo un po' banale ma vi assicuro che nell'ambito professionale è una caratteristica importantissima soprattutto quando dovete condividere dei contenuti con altre persone nella stessa stanza la estensione a 180 gradi è una della scerniera è una caratteristica molto molto importante molto molto utile anche qui come vedete webcam shield quindi tutte quelle diciamo sicurezze che abbiamo anche abbiamo visto anche nelle altre macchine ecco come dicevo prima anche qui su una macchina di su macchina di questo genere portiamo la nostra tecnologia dei bordi sottili vedete molto molto sottile soprattutto dal punto di vista dei dei bordi laterali questo ci permette come dicevo prima di massimizzare lo schermo e quindi di guadagnare spazio per quanto riguarda la scocca parliamo di un 84 per cento di rapporto schermo macchina per la macchina 14 pollici e invece un 90 per per la macchina 15 pollici come quindi come vedete un rapporto di rapporto schermo macchina molto molto vantaggioso anche in questo caso quindi riusciamo a garantire degli schermi molto ampi a fronte di scocche anche dalla ottima portabilità in più quindi soffermo un attimo a far vedere le porte di queste macchine negli altri non vi ho fatto vedere ma ovviamente stiamo parlando sempre di un set di porte quanto mai completo soprattutto di thunderbolt e insomma type c con thunderbolt e via dicendo quindi tecnologie molto molto avanzate per tutte le macchine che ho fatto vedere prima in questa mi soffermo un attimo perché ci sono due cose interessanti come vedete anche su questo tipo di macchina offriamo la tecnologia thunderbolt 4.0 quindi l'ultima tecnologia per quanto riguarda le porte usb le porte usb tradizionali di tipo 3 quindi vedete ce ne sono molte a disposizione ma anche cose un po particolari come vedete un'uscita hdmi ma soprattutto un'uscita vga è un rg 45 quindi quella per diciamo il la connessione lan via cavo questo perché sono ovviamente tecnologie che possono sembrare un po datate anzi lo sono però noi ci interessa diciamo montarle anche su questo tipo di macchine perché sappiamo che le aziende e i professionisti che devono diciamo usare queste macchine molte volte hanno a che fare con tecnologie ancora un po datate magari hanno dei macchinari che sfruttano ancora diciamo questo tipo di attacchi questo tipo diciamo di adattamenti di porte e quindi offriamo diciamo al professionista la comodità di poter connettere la propria macchina in qualsiasi contesto senza doversi portare dietro adattatori di di ogni sorta diciamo questo tipo di dotazione di porte input output è molto molto importante soprattutto nel livello professionale anche qui ovviamente anche sulla linea essential proponiamo quelle tecnologie di noise cancelling che abbiamo visto prima cioè quella tecnologia che va a ripulire l'audio delle nostre call quindi come vedete anche sulla linea essential possiamo sfruttare diciamo questa tecnologia per poter diciamo fare call in qualsiasi situazione senza paura di non essere diciamo sentiti o di non sentire quindi possiamo diciamo fare le nostre call in qualsiasi situazione anche molto rumorosa tanto la nostra tecnologia il nostro pc andrà a ripulire l'audio e far arrivare ai nostri interlocutori solamente la nostra voce stessa cosa inveceversa quindi con l'audio che arriva in entrata altra tecnologia importante che era sempre che questa presente nelle macchine che ho fatto vedere ma adesso mi focalizzo soprattutto qua è una questa tecnologia di far field normalization cosa significa che quando andiamo fare un esempio una call di gruppo quindi con altre persone nella stessa stanza il pc logicamente è posto in una posizione che sarà sempre un pochino più distante da alcune persone e quindi c'è interlocutori da remoto questa tecnologia va diciamo un certo senso a equalizzare i volumi in modo che tutte le persone che stanno attorno al pc abbiano grosso modo la stesso volume di voce e quindi ci permette quindi di fare una call di gruppo garantendo a tutti i partecipanti nella stessa stanza di essere sentiti nella maniera ottimale possibile e quindi vedete un'altra diciamo tecnologia che ci permette di andare incontro a quelle che sono le esigenze del professionista soprattutto negli ultimi tempi perché sappiamo che l'attività delle call online è diventata un'attività diciamo imprescindibile per qualsiasi tipo di professionista quindi stiamo diciamo implementando questo tipo di tecnologia su tutta la nostra line up commercial. Altra caratteristica del B1400 B1500 è questa diciamo chassis che si può facilmente rimuovere con queste con queste dieci viti che vedete nella parte bassa della scocca perché vi faccio vedere questa cosa perché è molto probabile che un'azienda che si dota di queste macchine abbia l'interesse abbia tutto l'interesse di poterle aggiornarle aggiornarle nel tempo perché magari oggi le compra poi magari l'anno dopo vuole continuare a sfruttarle logicamente però bisogno di potenziarle magari di cambiare di sostituire l'hard disk quindi lo spazio di archiviazione magari vuole aumentarlo oppure semplicemente cambiarlo perché ha bisogno diciamo per esigenze professionali o per dire se parliamo dell'ambito educational magari anche per una classe che ha bisogno diciamo di avere diciamo un nuovo spazio di archiviazione hanno bisogno che questa macchina sia facilmente diciamo upgradabile da questo punto di vista questo diciamo questo design particolare ci permette quindi di aprire e chiudere la macchina in maniera molto facile semplice e veloce in modo da poterle e poter diciamo upgradare queste macchine e quindi allungare la loro vita in un certo senso quindi diciamo che il design di queste macchine fatto apposta per essere per favorire un aggiornamento delle stesse durante il tempo che sappiamo come dicevo prima un'azienda può avere delle esigenze diverse che possono mutare da anno in anno quindi avere la possibilità di poter upgradare in maniera facile e veloce e logicamente molto pratica le sue macchine diciamo è un vantaggio notevole e quindi lo abbiamo diciamo facilitato grazie a questo tipo di design ok io adesso ho esaurito quella che è la panoramica dei nostri prodotti della linea commercial spero di essere stato abbastanza chiaro e adesso passerei un attimo a quello che è un prodotto molto particolare ovvero l'asus vivobook vivobook t 3300 stiamo parlando di un po di un ritorno di un form form factor che noi abbiamo in un certo senso inventato anzi senza un certo senso l'abbiamo proprio inventato noi ovvero quello dei due in uno quello di del pc che si può possiamo essere staccato dalla tastiera e usato come un tablet il vivobook t 3300 chiamato anche il vivobook slate 13 è un po particolare perché vede il ritorno di questo form factor però con l'anno aggiunta molto particolare ovvero quella della tecnologia oled prima vi ho parlato di tutti i vantaggi della tecnologia oled bene stavamo parlando ovviamente di un prodotto flip adesso vi parlo invece di un prodotto due in uno quindi come vedete pensate a tutti quei vantaggi che si possono avere da una tecnologia oled quindi quella siamo resa del colore quel contrasto elevatissimo e via dicendo in un ambito su un form factor di questo genere quindi vedete che siamo i vantaggi da questo punto di vista sono veramente notevoli anche dal punto di vista professionale un for factor un form factor di questo genere ha ovviamente diversi diversi vantaggi il primo è sicuramente quello di una alta altissima versatilità ovviamente unita a una portabilità molto molto importante stiamo parlando come vedete anche qui una scocca in alluminio uno spessore quindi un uno spessore di 7,9 mm quindi anche qui una macchina estremamente sottile logicamente stiamo parlando ovviamente di una macchina che può essere usata come un tablet e un peso molto contenuto anche qui ampiamente sotto il chilogrammo e quindi diciamo una macchina estremamente portatile che si può usare in tantissimi contesti diversi come vedete anche da questa slide la possiamo usare come se fosse un tablet la possiamo usare come se fosse un notebook o semplicemente come diciamo un reader quindi anche in posizione verticale quindi vedete abbiamo tantissimi modi per poter sfruttare questo tipo di macchina anche dal punto di vista professionale ovviamente anche qui diamo la possibilità di avere una una penna molto molto accurata nel suo utilizzo pensiamo che una macchina in questo genere possa essere usata da un professionista che usa questa macchina a livello diciamo di come come grafica quindi posso usare diciamo in maniera creativa questo tipo di macchina quindi offriamo diciamo una penna come quella che avete visto prima molto diciamo sensibile che può registrare 4096 livelli di pressione diversi quindi una penna diciamo dall'uso assolutamente professionale in più questa penna può essere utilizzata anche in un ambito un pochettino diverso può essere diciamo adattata ad altre esigenze ad esempio può essere programmata in modo da poter essere utilizzata come un telecomando per le slide quindi una presentazione diciamo dal vivo come sto facendo io a voi però dal vivo logicamente la possiamo usare come un telecomando per mandare avanti indietro le slide oppure possiamo diciamo adattarla diciamo ai vari usi del di microsoft delle varie suite di microsoft quindi diciamo è un uno strumento che può essere molto molto versatile e molto utile per tutti i professionisti sì poi visto quindi l'avete visto insomma stiamo parlando di un form factor molto molto portatile che propone comunque un uso che può essere sia creativo ma anche molto molto professionale e quindi pensate appunto anche come dicevo prima a tutta la tecnologia oled applicata a questo tipo di di macchina oltretutto una macchina anche ovviamente munita di anche qui di una porta usb type c che ci permette quindi di ampliare lo spazio di lavoro potendo connettere uno schermo anche più ampio fisso oppure ha la possibilità anche di essere diciamo anche molto molto sfruttata in maniera per molto tempo perché ha una batteria dalla durata molto lunga e soprattutto può essere ricaricato sempre tramite la usb type c anche da anche da sfruttando un power bank quindi come vedete una macchina anche qui da questo punto di vista molto molto portatile e utile anche dal punto di vista professionale ok adesso io ho chiuso in un certo senso tutta la panoramica delle macchine quindi del delle tutte le nostre notebook della nostra linea commercial più il video book 3000 la T3300 adesso spenderei un paio di un po' di parole qualche minuto sulla nostro servizio Zencare allora il servizio Zencare è un servizio molto importante di cosa si tratta praticamente noi sappiamo che tutte le aziende professionistiche vanno ad acquistare una macchina di questo genere hanno tutto l'interesse questa macchina duri nel tempo e che se nel caso ci fossero dei problemi possano diciamo in un certo senso diciamo superarli quindi mandare i computer in assistenza e ritornare diciamo attivi il prima possibile bene noi diamo diciamo un servizio in più diamo la possibilità ad aziende e anche privati di essere rimborsati oltre di riparare diciamo la macchina anche di essere rimborsati rispetto a il diciamo al danno accidentale che scusate il danno che si è verificato come funziona praticamente c'è un portale quando l'azienda o il professionista va a comprare la nostra macchina quindi una macchina compatibile con il programma di Zencare può andare su questo portale che è www.http.zencare.asus.com e una volta insomma che ha comprato la macchina può andare su questo portale entro 15 giorni e inserendo diciamo tutti i documenti che vengono richiesti da questa dal portale può registrare la sua macchina registrata la macchina poi quando nell'arco di un anno se ci si verificano dei problemi di fabbrica quindi il pc deve essere mandato in assistenza una volta che il pc torna dall'assistenza possiamo andare tornare su questo portale e richiedere il rimborso fino a 1000 euro allora come funziona ve l'ho già ve l'ho già insomma anticipato il professionista può comprare professionista o l'azienda possono comprare un certo numero di macchine andare sul portale di Zencare dare insomma caricare insomma registrare la macchina caricando la ricevuta o la fattura quindi della prova d'acquisto o caricando insomma anche la foto dell'etichetta del serial number e così ha registrato la sua macchina oppure più macchine perché l'azienda può registrare fino a un massimo di 20 macchine mentre un privato può registrare un massimo di 5 macchine una volta che succede diciamo un problema che non è un problema di natura accidentale ma un problema possiamo mandare la nostra macchina in assistenza una volta tornata dall'assistenza possiamo andare tornare appunto sul portale di Zencare entro 15 giorni e caricare altre diciamo fare la richiesta di rimborso caricando un paio di documenti come ad esempio il numero di pratica quindi l'rma della 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 dell'assistenza il rapporto di intervento fornito al centro assistenza e ovviamente le coordinate bancarie quindi l'iban e quindi fatto questo possiamo anche ricevere il nostro rimborso che ricordo è dei pro vale per i prodotti fino a mille euro vi ricordo un'azienda può registrare fino a un massimo di 20 macchine e richiede il rimborso per 5 di queste un professionista può registrare 5 macchine e richiede il rimborso per una di queste il portale è questo qui come vedete lo ricordo zencare.asus.com e come vedete c'è un form factor logicamente da compilare e via dicendo in chiusura vi ricordo anche un altro portale che diciamo è di riferimento per quanto riguarda il mondo di asus ovvero asusworld.it è un portale che noi stiamo ovviamente sfruttando per dare a voi tutte le informazioni diciamo e tutti diciamo i servizi utili per il mondo appunto per il mondo asus quindi vi ricordo che potete sfruttare questo tipo di portale per per avere diciamo informazioni di qualsiasi genere bene io qui ho finito e quindi adesso vi ringrazio e logicamente anch'io rimango disponibile per ogni possibile vostro dubbio o domanda grazie per avermi ascoltato grazie intanto grazie alberto tanto complimenti perché insomma sei riuscito comunque pur essendo partito un po in ritardo a rispettare perfettamente gli orari sono le 15 quindi bravo complimenti non era facile gli argomenti erano sicuramente tanti esatto detto questo se ci sono chiaramente delle domande come diceva alberto siamo a disposizione mi sembra che non mi sembra che ci siano domande intanto volevo ricordare che comunque arriverà questo webinar quindi dovessero sorgere delle domande successivamente o anche di altro di altro genere comunque dato voti di sinex c'è sempre antonio reda che è disponibile per qualsiasi mondo assolutamente qualora insomma avesse bisogno di informazioni anche insomma di qualsiasi tipo oltre chiaramente a quelle del prodotto stesso chiaramente potete fare riferimento a me se preferite io vi posso lasciare i contatti in chat così magari se qualora insomma avesse bisogno comunque piacere di presentarsi anche con me magari insomma siamo comunque a completa disposizione io vi lascio i contatti allora grazie grazie antonio sì mi sembra un'ottima un'ottima idea ringrazio anche fabio che ha scritto in in chat allora sto scrivendo i miei contatti quindi resto a completa disposizione dei nostri partner perfetto ottimo perfetto allora io ringrazio nuovamente tutti voi ringrazio td sinex e di nuovo buona giornata a tutti e grazie a presto